Anche il successo, o il trattamento economico, ma che non avevo considerato, non ho iniziato a fare questo messaggio dicendo voglio fare l'attore di successo e ben pagato, no, io volevo recitare. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, bentornati, ciao io sono Gianluca Gazzoli, questo vuol dire nuovo amico che ci viene a trovare, se ancora non l'avete fatto vi va, iscrivetevi a questo canale se ci state guardando su Youtube, se ci state ascoltando o anche guardando su Spotify, continuate a farlo, non dovete cliccare niente, fare niente, ma solo avere un po' di attenzione, altro che attenzione, qua in realtà anche se siete distratti, perché il podcast un po' vi accompagna anche nelle cose che fate nella vita, vedrete che verrete incredibilmente ipnotizzati a un certo punto, non tanto da me, quanto dall'amico che è passato a trovarci oggi, sono molto contento più, è Francesco Favino, è passato dal Basement, Che bello, che bello, bello per me, grazie, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, sono stracontento perché quando avevamo pensato di mettere su tutta questa baracca, tutta questa cosa, avevo pensato a passare dal Basement, eccetera, tra i primi ospiti con cui io avrei voluto fare una chiacchierata assoluta della vita e ho sempre pensato a te. Grazie, sono molto felice io di essere qua. No, anche perché adesso finalmente mi tornano i conti, nel senso, in quel primo periodo in cui ci siamo, anche intravisti, poi sentiti, mi hai detto insomma che ti avrebbe fatto piacere, mi faceva piacere, poi insomma, anche parlando con Ale, eccetera, no, perché è impegnato in questo momento in un film, di notte, sempre di notte, sempre di notte in giro, sta recitando, ma che film starà mai facendo? Eccola, risolta, eccola lì, l'ultima notte d'amore, l'ultima notte di amore, stavo girando qua a Milano, tutto di notte, metronotte praticamente, ed era il motivo per cui ti ho dato le buche. No, beh, però ti voglio dire, credo che la tua vita in quel periodo sia stata abbastanza scombussolata, perché da che ora a che ora giravate? Ma diciamo che facevamo l'alba tutti i giorni, per cui più o meno girevamo, mi venivano a prendere più o meno verso le 7 di sera, forse anche un po' prima, le 6, e appena faceva buio andavamo fino a quando era il sole, non so, gireva di nuovo. E lì, boom, a registrare tutto quello che si poteva. Quindi l'incoglionimento per 11 settimane di lavoro, nel frattempo dovevo fare anche una roba, perché c'è stato a can di mezzo, c'è stato fisicamente, è stato impegnativo. Però il divertimento è anche stato, per un film così inusuale per il nostro cinema è stato molto alto. Allora, insomma, ho parlato anche con alcuni amici che fanno questo di mestiere, cioè guardare i film e anche criticarli, commentarli, eccetera, e insomma ho sentito dei pareri tutti molto entusiasti, che non è una cosa, già piuttosto uno il parere non lo davo, a meno che lo devi dare appunto per lavoro. Ma lo senti, ma lo senti anche su di me, cioè io sono convinto che quando vedi che io sto promuovendo un film, cosa che faccio spesso e molto volentieri, me lo leggi in faccia quando quel film mi convince o no. Un po' sì, non sono un grande venditore da questo punto di vista, invece qua sono non solo felice, ma sono proprio entusiasta di poterlo vedere, ma anche perché secondo me è un film che poi può generare altri film così. Ok, ok. Quindi io da spettatore ho voglia di vedere roba diversa, e quindi questo è un film diverso dal solito, è un film che facevamo qualche tempo fa, in un modo in cui lo giravamo qualche tempo fa, e poi alla fine esistono i film belli e i film brutti. Sì. Perché in mezzo non c'è niente, se tu esci da un film dicendo, bella la fotografia, bravo lui, brava lei, però è bella musica, fantastica, quando tu non riesci a dire che cosa ti è piaciuto di più, vuol dire che il film è riuscito. E secondo me questo è quel caso. Allora, sono riuscito a vederlo, mi ha colpito molto quel discorso, a parte il fatto che appunto è girato praticamente tutto di notte, quindi nonostante ci siano dei momenti anche scuri, che normalmente magari tendono anche a una persona che guarda in qualche modo a, non dico a distrarsi, però invece ad affaticarle, no? E invece ti tiene incollato lì. Eh beh, perché è girato in pellicola. Qual è il genere? Il genere è un poliziesco, un noir? L'ha definito, sì, è un noir poliziesco, l'ha definito molto bene Andrea Di Stefano, che il regista l'ha chiamato uno spaghetti noir. Uno spaghetti noir? Mi piace molto la definizione. Ok, ok. Però in realtà c'è stato un periodo, però si giravano quasi sempre tutti a Milano, negli anni 70, cioè quelli che chiamiamo i poliziotteschi, che hanno avuto un filone molto di gran successo all'epoca. Questo è un po' diverso, perché comunque se vuoi fare dei riferimenti, magari fai dei riferimenti al cinema coreano, piuttosto che a Michael Mann, a quel tipo di cinema lì. Però è una storia totalmente italiana, cioè al centro di... la sfida vera era riuscire a rendere credibile l'ambiente in cui normalmente siamo abituati a vedere, a recitare Denzel Washington. Ah, certo. Cioè, sei abituato al poliziotto del New York Police Department che va lì. Ma infatti, questo invece l'ho sentito uno dei tuoi commenti a riguardo, proprio citando Denzel Washington, cioè dicevi, questo è un film dove tu il protagonista non sai se alla fine la può portare a casa. Se ci fosse stato Denzel Washington, tu sai che quello in un modo o nell'altro qualcosa te la risolve. Perché per contratto ce la deve fare. Ok. Sì, sì, sì. Fabino al limite può andare pure male. E secondo me però questo in un thriller, perché poi alla fine di questo stiamo parlando, cioè tu vuoi sapere questo, se ce la fa o non ce la fa, ecco che ci sia Fabino, è più probabile che possa anche non farcela. E quindi la tensione mentre lo guardi è superiore. Sì, ma intanto senza fare troppo spoiler, se tu dovessi spiegare la trama... Guarda, ti posso dire che secondo me spiegare la trama è una di quelle cose che non fa andare al cinema le persone. No, nel senso io ti dico, c'è un regista che vuole fare un film ma ha i dubbi su come farlo. Che film è? 8 e mezzo. Ma è la realizzazione di 8 e mezzo che ti fa dire che cazzo che film è. Questa è un punto di vista molto interessante. Beh sì, ma non è tanto per non spoilerare la trama, no? Perché poi alla fine comunque è il cameriere. È più che altro che quella è una... Ormai siamo abituati a cercare di portare la gente al cinema raccontandogli la storia. Ma la storia è una parte, soprattutto con un thriller. Io ti posso dire che questa è la storia di un normalissimo poliziotto del volante che si trova negli ultimi giorni della sua esperienza come poliziotto ad accettare di scortare delle persone dall'aeroporto a la persona a cui devono portare della merce. Lui dice io non trasporto merce rubata, non trasporto droga, non trasporto persone armate. Per cui tranquillo, lo pagano tre volte quello che lo pagherebbero in un mese. Perché questo sarebbe un secondo lavoro? Non posso fare un secondo lavoro, però con 1.400 al mese, una famiglia alle spalle, come fai? Soprattutto a Milano. Milano è al centro di questa storia, Milano è un altro personaggio di questa storia. Ed è una Milano come non siamo neanche molto abituati a vedere all'inizio, cioè questa... Quest'elicottero... Sì, ma colpito infatti è elicottero e non dronata proprio perché è girato tutto in pellicola. È girato tutto in pellicola, però è raro che un drone ti dia la possibilità di fare un'inquadratura così lunga. È un'inquadratura molto lunga in cui da City Life, piano piano, vai in questa notte milanese che ti accompagnerà per tutto il film, fino a casa, una casa molto normale, piccola, borghese di quest'uomo, in cui si sta per festeggiare il suo ultimo... Che poi quest'uomo appunto si chiama Amore, Franco Amore, Amore di cognome, quindi nel titolo c'è questo anche gioco di parole, doppia chiave di lettura, insomma. In realtà esiste veramente, Andrea Di Stefano l'ha trovato un giorno che è andato a vedere una partita di calcetto tra persone, c'era uno che si chiamava Amore di cognome e ha detto ma io potrei chiamare Franco Amore. Ed in realtà l'amore per la sua donna, che è una bravissima Linda Caridi, che si chiama Viviana nel film, è una delle ragioni per cui quest'uomo alla fine vuole assolutamente tentare di sopravvivere. La cosa che dicevo, e ti dicevo prima che iniziassimo, era insomma guardandolo, nonostante sia una storia abbastanza lontana magari da molte persone, però ci si può anche un po' ritrovare, perché come dicevi anche tu, Franco Amore in questo caso è un poliziotto che rispetta la legge, cioè una persona normale, no? In qualche modo, anzi addirittura uno buono che puoi quasi fare fesso in alcuni momenti. Ma in cui forse l'onestà ogni tanto come equazione viene considerata un po' come stupidità, però innanzitutto è uno di quelli che ti potrebbe capitare di incontrare quando vai a rinnovare il passaporto, non il rambo, è proprio il contrario, anche un po' sovrappeso, con la moglie che tenta un po' di rimanere giovane, come si veste, si fa i tatuaggi, tutto sommato anche un po' ti tenerisci. Esatto, ti mette un po' di tenerisci. Quella roba lì, no? Però sì, è assolutamente un uomo comune. La cosa molto bella è che secondo me non bisogna mai sfrucogliare troppo la gente normale, perché la gente normale, come me, ha delle energie che non sa di avere. Questa è la storia di un uomo che si trova proprio nel posto sbagliato. In una situazione che forse non era pronto neanche ad affrontare. E' noto per non aver mai sparato un colpo nella sua vita e quindi è anche uno che ha fiducia nei rapporti umani. Se ti capita di dover fermare di notte una persona, se riesci a non sparare vuol dire che hai una capacità di parlarci. Sì, 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 di dialogo, di tutto. Poi l'altra componente è, diciamo, perché questo compito, insomma, le persone a cui fa questa commissione fanno parte, non ho capito se è comunque dell'ambiente cinese a livello mafioso? Beh, no, della comunità cinese in realtà all'inizio, quando lui viene chiamato, deve fare un trasporto di diamanti. Questo trasporto di diamanti, la provenienza di quei diamanti non è una cosa che lo riguarda. Però questa è una cosa che mi interessa. Cioè, viene sì chiamato la comunità cinese, però poi non voglio svelare nulla. Ma non sarà solo la comunità cinese ad essere coinvolta, perché poi non c'era nessuna intenzione di dire, ecco, loro sono i cattivi. Sì, sì, sì. Ma fondamentalmente non sai neanche se lui è buono o cattivo. Cioè, non è l'interesse del film. Una cosa bella che dice Andrea, sono d'accordo, lui non fa film per migliorare la società, lui fa film che possano funzionare dal punto di vista dell'intrattenimento, in cui lui racconta la società come la vede. E questa storia qui è una storia reale. Sì. Cioè, non è una storia inventata, è una storia molto probabile rispetto a delle cose che abbiamo studiato. Infatti questo mi ha colpito anche, no? Il fatto che Abbiate è studiato. Cioè, nel senso che vai in giro, vai tu stesso anche a parlare con i poliziotti per cercare di capire... Insomma, è un modus operandi tuo solito quando affronti un ruolo? Sì, beh, innanzitutto non sarebbe una mancanza di rispetto enorme, no? Se uno venisse da me dicendo adesso voglio fare l'attore, non sa nulla della mia vita, e probabilmente vedendolo potrei notare le cose che non funzionano, no? Di quella cosa lì. Soprattutto quando hai a che fare con una realtà così importante come quella delle persone che comunque sono lì a difendere la nostra sicurezza, con tutte le eventuali deviazioni del caso che sono deviazioni che ci sono in qualsiasi ambito e ambiente. Però sì, ma perché poi alla fine la quotidianità delle persone, a seconda di quello che fanno, è materia del mio lavoro. Io mi occupo di come si comportano le persone. Quindi se io non riesco a capire come si comportano e perché si comportano in un certo modo, quali sono le loro logiche, per esempio nel film c'è questo compagno di lavoro, ecco queste sono persone che lavorano per 10-15 anni a fianco allo stesso fratello, si crea un rapporto di fratellanza. Anche situazioni pericolose, quindi aumenta tutto il rapporto. Sono persone pericolosissime, per cui sentirti raccontare da carabinieri, polizia, ex carabinieri, ex poliziotti, magari in una maniera diciamo non pubblica, quello che hanno fatto, cosa gli è capitato, ti fa domandare prima di tutto ma io come avrei reagito nella situazione? Avrei avuto la capacità di sapere reagire come ha reagito lui? Per cui ti raccontano di sparatorie all'interno di una gioielleria con ostaggi, in cui in due hanno dovuto far finta di, la classica cosa siete circondati, però l'hanno fatto a 20 anni. Capisci che è una roba pesante. E poi ovviamente ti raccontano anche di quanto possano essere incazzati rispetto a quelli che invece possono dare un'immagine corrotta o violenta oppure facinorosa. Vedi come funziona il tuo interloquire con loro all'inizio? Cioè dici salve, sono Pierfrancesco Favino, vorrei farle delle domande. Il primo a fare questo lavoro è stato Andrea Di Stefano, per cui tra l'altro lui in questo è molto accurato e riesce a ottenere la fiducia delle persone. Non è che al primo incontro tu riesci subito ad avere… Ok, infatti immagino. Però è stata la stessa cosa che ho fatto nel traditore. Certo. È stata la stessa cosa che ho fatto per Craxi, la stessa cosa che ho fatto per Pinelli oppure per un mestiere di cui non sapevo nulla che magari ho dovuto interpretare per Acab. Stessa cosa. Cioè sono comunque andato lì e cercando di mettere da parte il mio giudizio personale nei confronti delle persone o quello di quel mestiere in particolare mi sono domandato ok, che uomini sono? E che uomo è poi quello che stiamo raccontando a noi? Quindi che cosa di quello che mi raccontano loro può rientrare nella vicenda di Franco Amore? Ok, e quanto dura di solito questo periodo di studio? Dipende. Ok. Per esempio per Buscetta io mi sono preso quattro mesi per in questo caso qui più o meno due mesi e mezzo poi mi rimetto a lavorare sulla sceneggiatura a volte con qualcun altro lavoro insieme a un coach piuttosto che una persona che mi fa vedere le angolazioni che non riesco a vedere rilavoro con il regista dopo aver fatto questo lavoro vado con il regista e dicendo senti ma questa cosa qua io la intendo così è giusta o non è giusta? Se facessimo questo non pensi che daremmo ti ricordi quando quello ci ha detto quella cosa magari qui potremmo inserire mi sembra giusto però poi appunto sempre a livello collaborativo rispetto al mio ruolo mi vado a sostituire a quello che poi uno che tra l'altro ha il manico come in questo caso Andrea non ha certo bisogno di me beh però comunque chiaro immagino che il consiglio il punto di vista anche dell'attore per alcuni registi sia importante consiglio no magari così come capita a me a lavorare con qualcun altro per avere un punto di vista diverso magari può essere utile qualcuno ti faccia vedere una cosa che non hai notato oppure un'altra angolazione di quello che deve andare a vedere tra l'altro anche nel caso di di Franco Amore quando lo interpreti cambi il modo di parlare cambi lì a che cosa ti sei ispirato perché non riesco a capire cioè non ha un accento particolare in realtà nella mia è una persona che ho incontrato ah ok e però negli anni 80 quindi più o meno quando questa persona può essere salito a Milano perché se tu sei del sud vieni mandato al nord molto spesso cioè tu non puoi fare nel paese di provenienza da dove vieni il poliziotto carabinieri perché potresti avere per conflitti sì esatto negli anni 80 ci fu una grandissima emigrazione di poliziotti dal sud in particolare dalla Puglia per cui mi sono immaginato che questo qui fosse uno di quei pugliesi milanesi che lui incontri i famosi milanesi del tacco che però sono talmente integrati anche nel loro desiderio di essere considerati milanesi in cui quella lingua poi è diventata altra però è ispirato da una persona che ho incontrato veramente e che parlava effettivamente così tra l'altro un giorno è venuto sul set si è messo le cuffie senza saperlo ci ha sentito questo però è vero cioè se tu vieni fermato generalmente le persone del nord hanno dei ruoli più importanti all'interno dell'arma ok c'è solo uno famosissimo famosissimo è stato nell'antidroga per tanto tempo e ha fatto la notte ed era un'istituzione vera ed era Ligure e Lombardo ok però per il resto trovi sai per fare carriera devi avere comunque un titolo di studio superiore e se pensi agli anni 80 90 non erano tanti i ragazzi che dal sud avevano queste possibilità e quindi si spostavano magari una volta aver fatto il militare si spostavano al nord e volevano stare nella grande città però poi la grande città una città come Milano ti mette anche di fronte a tutto quello che tu non puoi permetterti certo e quindi alla fine sono tanti succedono delle dinamiche come quelle del secondo lavoro come tante altre cose sì ma posso dire in realtà sarebbe spero che questo film aiuti anche un po' a considerarla questa cosa beh metti una lente di ingrandimento su un tema io personalmente ad esempio la cosa del secondo lavoro non la sape cioè non pensavo fosse così frequente nel senso necessaria se tu non fai lo scatto no di crescita tu arrivi dopo 35 anni a guadagnare 1800 al mese con famiglia affitto e magari vuoi fostare studiare i tuoi figli fuori che su Milano è un po' un po' complicato se sei fortunato già 8-900 se ne vanno di affitto e che ti resta e in più tu sei chiamato in un momento in cui lavori ad avere una lucidità particolare quindi se tu stacchi quel turno di 7-8 ore considera che se fai stradini straordinari sono pagati 3 ore e mezzo allora vai a fare doppio lavoro quindi se lavori di notte vai avanti di giorno 2 ore di sonno e ti rimetti in macchina e che lucidità può avere una persona che poi si trova uno che gli spara che gli metterà l'arma davanti piuttosto che la rapina piuttosto che la piccola anche la piccola criminalità no no per cui secondo me è un pensiero insomma sicuramente loro te lo dicono loro ti dicono che buona parte della corruzione dipende anche da come sei fatto tu ovviamente la mela marcia c'è però certo che se ci fosse un po' più devo dire di liquidità magari ti verrebbe meno probabilmente ti verrebbe meno anche dei professori sul discorso del girato del film in questo caso c'è pochissimo di digitale praticamente nulla le esplosioni che vedete sono vere le macchine che vedete sono tutte vere è girato in pellicola quindi quel discorso che facevi tu della notte la girare in pellicola dà una profondità completamente diversa alla luce e soprattutto agli occhi non ce ne rendiamo tanto conto però se vai a vedere al cinema questa cosa c'è una grande differenza perché quella notte non diventa più una notte solo angosciante diventa una notte che ti abbraccia e diventa un aspetto dell'animo di questa persona sta in quell'oscurità e a te recitare con un discorso così vero è una cosa che ti è piaciuta che c'è nel senso tante volte si vedono nei vari ormai girano video di ogni cosa si vede che quando qualcuno magari recita con il digitale o con la varia con il green eccetera sono situazioni un po' diverse invece lì sei tu nel tunnel con la macchina che va a fuoco con cioè penso che anche per te sia adrenalinica come situazione ti cadi anche un po' più sotto cioè tu hai guidato davvero su quelle strade tra l'altro è una cosa che non avremmo mai potuto fare altrove cioè noi siamo messi in macchina prima ho fatto il ciac io e l'operatore ciac messo via che non si vedesse via tangenziale e alè e via e si va e ancora di più le scene in cui io sono a piedi le macchine sfrecciano sì poi quelle sue macchine che comunque stavano passando macchine no erano macchine anche messe da noi però erano tantissime era una cosa che per un film italiano molto rara ma che in America non potresti fare così perché non potresti farlo perché le dinamiche di sicurezza di cinema americano te le impediscono che è giusto da una parte ma è giusto quando ti puoi permettere il film che costa 150 milioni di euro chiaro ora puoi ricostruire tutto va bene c'è uno sforzo produttivo importante perché il film comunque costa 10 milioni di euro la nostra cinematografia è una rarità però tutti quei soldi sono sullo schermo chiaro e meritano di essere visti al cinema in sala grande tema non mi ricordo se ti ho sentito dire quando parlavi dell'andare al cinema appunto del dare un qualcosa per cui le persone debbano uscire di casa e andare al cinema in qualche modo sì senza dubbio cioè se io se c'è un film che esce al cinema e tu vai al cinema e sei deluso da quello che vedi a me mi rode il culo scusa la francese sia da spettatore che da persona che fa questo mestiere adesso io mi sono un po' stancato di dire dovete andare al cinema perché non si deve andare al cinema la cosa difficile è riuscire in questo momento per me a scavallare quella sfiducia che c'è nei confronti di quello che facciamo noi io metto il mio impegno al 100% sempre in quello che faccio poi un film non è che tutte le volte riesce come dovrebbe riuscire quando succede vuoi che venga visto così ma perché è stato fatto per esempio è uno dei pochi film in cui c'è l'atmos il suono l'atmos è una per chi non lo sapesse è il passo avanti del Dolby per cui la circolarità del suono ti abbraccia in un altro modo ed è una spesa farlo e per cui quando vai lì cioè tu stai vivendo quel tipo di esperienza e sai il famoso trailer lui fece questo quella roba lì nasce e tu quando vedi quella cosa mi hai detto è figo no? c'è la reazione sì sì quella cosa lì è questa tecnologia e abbiamo voluto usarlo Andrea ha voluto usarlo perché è anche un suono un respiro che ti arriva non sai bene da dove in un thriller è una cosa come dici tu hai detto la parola abbracciare un paio di volte avvolgere realmente quello che succede sei dentro e nel film è così e quando lo vedi in sala è quella roba là è come se tu se a te ti piace la matriciana e la vai a mangiare in un ristorante di un certo tipo ti muovi da casa vai a mangiare la matriciana lì è come se tu dicessi no però è la matriciana se mi prendo questa pillola che sta di matriciana è la stessa cosa allora ci sono dei film e dei piatti che tu puoi prendere a casa e gustarteli e non noti la differenza ma quando c'è una qualità diversa tu ti muovi per andare a mangiare ecco questo secondo me è quella matriciana ma secondo te basta a volte la qualità o bisogna anche inventarsi qualcos'altro per portare per dare un un motivo alle persone per andare al cinema oggi eh non dico in generale nella storia oggi bisogna inventarsi in modo anche di parlare io penso che le persone cioè io penso che il cinema debba tornare ad essere una cosa fica esatto una cosa cool le persone in questo momento hanno voglia di di sapere che stanno facendo qualche cosa di cool nella loro vita non è un termine che amo però è chiaro che io per assurdo penso ogni tanto che il cinema dovrebbe costare molto di più sì penso che se il biglietto al cinema costasse 30 euro avremmo molte più persone che ci vogliono andare perché pensano che fa figo non è una cavolata succede con tante cose questo per niente però visto che invece il valore di quella cosa lì giustamente invece c'è una cosa molto importante il cinema è una cosa popolare cos'è fico di quella cosa là per me fico oggi e lo so di dire una roba abbastanza forse un po' da boomer però è stare lì non sapendo chi c'ho vicino e condividere con quella persona che non so chi è una cosa che sta nella testa di un altro in un luogo che non posseggo cioè io se compro una televisione quella sta ai miei comandi anzi ai miei telecomandi per cui quello che vedo lì lo determino io ora è vero che anche al cinema è lo spettatore che sceglie il film non solo ma che lo fa cioè prova a stare in una sala in cui c'è una commedia in cui si ride in quattro e entra nella stessa sala con 500 persone in cui si ride in 500 quella commedia è molto più divertente penserai che fa ridere molto di più è la stessa commedia ma la persona che la cambia se stai in una sala in cui fanno tutti insieme esci e dici madonna ma quanto ha fatto paura ma non è il film è che tante persone hanno avuto paura insieme a te certo sullo schermo ci deve essere una cosa per cui valga la pena starci e quindi il mio sforzo personale è di partecipare a cose ogni volta diverse per cui valga la pena andarci cioè se esci dalla sala e nel film in cui ci sono io io vedo che ci sono persone che non sono soddisfatte mi cazzo mi cazzo con me e mi domando dove ho sbagliato perché oggi chiedere questa cosa significa tanto però al contempo c'è anche una pigrizia improvvisa cioè due anni fa non era così improvvisamente il cinema è finito nell'ultimo cassetto delle cose che sembra ci interessino il teatro no il teatro i concerti paradossalmente il teatro ha anche avuto anche qualcosina in più però perché perché le persone vogliono andare a vedere roba dal vivo quindi voglio dire che devono vogliono assistere a una cosa che sanno che non è replicabile in questo si sottovaluta il fatto che quando il film è fatto in un certo modo quella cosa non è replicabile a casa puoi avere l'home theater più grande del mondo puoi avere lo schermo uguale a un IMAX di una grande sala ma quello che fa la differenza è che tu sei uscito di casa hai espresso la tua volontà rispetto a vedere una cosa piuttosto che l'altra hai messo di fronte a quella cosa delle aspettative hai pagato con i tuoi soldi quindi ti sei detto chi sei perché hai anche detto questo è il mio gusto e se ti ha soddisfatto te ne torni a casa dicendo io sono più figo se non ti ha soddisfatto ti dici porca miseria o non mi piace questa roba qua e quindi so un po' di più chi sono oppure sono incazzato meno male comunque c'è un'emozione forte no comunque sei tu sì 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 comunque hai l'opportunità di essere tu se tu sei di fronte a 700 menu nei quali poi alla fine probabilmente ti sbatti e dici senti ma non mi va più vabbè buonanotte addirittura lasci farlo all'algoritmo algoritmo che poi ti dice quindi a te piace questa roba qua e quindi da questo momento in poi a te ti piacerà sempre questa roba qua sì non ti fa scoprire una cosa nuova un po' come quando ti dicono ma forse volevi dire sei un po' trattato come un idiota cercami la crocabe ma forse volevi dire volevi dire chiave è vero che volevi dire chiave ma non ti giudiciamo ma volevi dire chiave è un po' quella roba io vedo le cose perché cambino i miei gusti sì ascolto la musica per sentire la musica che non conosco non la musica che conosco voglio andare a scoprire delle cose nuove diverse io sono in evoluzione se tu mi tieni all'interno di un algoritmo che decide sempre che io devo essere quello perché tu gli hai detto questo mi piace e stai lì che evoluzione hai di te stesso no non cambia ne esci da quei binari che bomba no no però è verissimo che evoluzione hai di te stesso questo è ti dico già questo è virale questo va virale questo va virale ma è vero io poi in realtà sul cinema sono un grande fan anche del primo e del dopo cioè a me piace quando prima di entrare al cinema che stai lì che aspetti che inizia il film stai nella sala ti vai a pigliare le cose poi ti guardi i trailer a me piace un botto il momento dei trailer al cinema quindi quelli che vengono questo lo voglio vedere proprio mi gasa tanto mi dispiace un po' adesso però capisco che ci sono ti dico all'inizio del film ci sono 30 minuti di pubblicità e poi i trailer però capisco nel fantastico mondo dell'industria che servono anche quelli me li guardo mi guardo i trailer mi guardo i film e poi dopo quando esco il commento cioè sono lì con le persone magari con cui sono andato ma anche altre che ti scambi due battute su quello che hai visto restiamo fuori nel parcheggio dire due cose adesso una proiezione a Berlino 2000 persone ok è fuori concorso perché è un film di intrattenimento già Berlino di solito c'è dei film in cui il protagonista è un coniglio e ha un problema che è un raziale con tutto il rispetto per i conigli salutiamo tutti i conigli che ci stanno seguendo anche per Berlino è chiaro però 2000 persone alla fine del film vedendole uscire stavano là tutti un po' a parte con questa roba della tensione perché tu sentivi proprio i peli del collo cioè vedevi la gente io avendo visto il film mi guardavo un po' intorno no? e vedevi piano piano le teste così e avere davanti 2000 teste sentire quel respiro là era una figata pazzesca e poi usciti vedevi che si scambiavano tutte queste opinioni sul fatto che però ho visto in una sala meravigliosa ma sì no no ma finiamo una figata io comunque non so però gli appartengo alla generazione no chiaro le nuove generazioni a me sembra che abbiano perché poi vabbè poi c'è tutto un altro tema i blockbuster i film americani gli avengers eccetera però la forza di alcuni film secondo me è proprio quella di sentirti parte di qualcosa per cui tu partecipi alla visione del film come se partecipassi a un rito collettivo con delle persone questo genere di film nasce cioè io ti potrei dire che cosa fa Franco Amore una volta che ha superato la prima schermata in che senso? è nel senso che voglio dire il principio di Assassin's Creed certo è il principio di questo film come fa? dove sta il mostro? ok come fa adesso a farcela? che pulsante devo si 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 chiaro è quello la storia lì nasce prima certo cioè io molto spesso vado a fare gli incontri nelle scuole premesso che lo voglio dire prima io non ho nei confronti dei giovani l'atteggiamento di voi non sapete come si stava meglio prima perché era una cazzata chiaro è proprio una cazzata non è vero loro hanno molte più cose a disposizione di noi sono molto più svegli di quanto non fossi io alla loro età e io lavoro con i giovani faccio un po' dirigo una scuola gratuita a Firenze per cui il mio intento è solo dare loro voce per cui imparo un botto da mia figlia piuttosto che non dai ragazzi che sono a scuola per cui non ho un giudizio nei confronti di quello che non posso permettermi di dire quello che dovrebbero fare però io vedo che quando tu dai loro voce alla fine vengono fuori delle cose meravigliose allora molto spesso vi faccio gli incontri nelle scuole e allora ci arriva Fabino beh dai abbiamo fatto sega oggi ma dai non andiamo a scuola ci si attacca la pippa sul cinema le palle non credo che sia proprio questo il ah sì ma giusto cioè arriva il vecchio metto là la prima cosa che faccio è chi gioca a questo 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 e vedi che fanno ma che bollo di questo nel mondo mio ah sì poi piano piano timidamente alzano la mano e allora iniziamo a raccontare ci occupiamo di come è fatto quel videogioco cioè qual è la storia questo aspetta un attimo secondo te chi l'ha inventato eh i sports no chi l'ha inventato ah o va nulla no dico ah stai parlando proprio di quello che l'ha scritto l'ha scritto andiamo a vedere insieme l'ha scritto questo ah allora sai che questo viene pagato di più che uno sceneggiatore ma da dove l'ha presa st'idea piano piano tu 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 mi ha omero e dici pensa un po' c'è uno che parte va in guerra la vince pure e poi c'è un problema deve tornare a casa come fa chi deve sconfiggere per tornare a casa primo capitolo boom certo mi dirai non è scritto facile facile però se tu non ti metti in quel mondo con passione e non capisci che le chiavi di quella passione in realtà sono chiavi condivise da noi certo e non gli fai vedere dal loro dal loro punto di vista si devi venire a prenderlo su una cosa che ma perché dovrebbero essere appassionati di ragazzi seduti basta per quale motivo certo per quale motivo cioè fagli fare la pagina instagram della monaca di monza no si devi trovare un linguaggio nuovo per raccontare una cosa che invece esiste da da tanto tempo è narrazione certo per assurdo la generazione che più usa il video è la generazione che più rifiuta il cinema è assurdo è vero si è assurdo è un paradosso ma con nessuno gli insegna che quello che si chiama l'establishing shot c'era una volta però per forza di cose si tornerà comunque anche a quel tipo di narrazione secondo me lo faranno loro si si di senza senza così come sono tornati vinili così come è figo sentire Kate Bush perché sta dentro Stranger Things che è una roba che sentivo io ci sarà un momento in cui diranno forse quando non ce lo chiedono questi mi arriverà in automatico ci vado ho scoperto Bertolucci che farà figo dire che hai scoperto Bertolucci ma perché non faceva figo io mi ricordo che andavo al cinema per partecipare alle discussioni familiari con gli amici dei miei che parlavano del film ho potuto andare al cinema qual è il film che ti ha non sconvolto l'esistenza però che ti ha fatto innamorare dire io voglio fare questo lavoro qua e tanti 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 no io sono nato convinto che avrei fatto il comico sì 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 ancora oggi sono convinto che in realtà tu sei un comico in un corpo davvero un comico nel corpo di un camionista no sì e perché 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 io da piccolo sono cresciuto con Totò il primo film che ho visto non con i miei genitori ma accompagnato dalla mia sorella è stato Ricomincio da 3D Massimo Trovise ok e me lo sono ricordato adesso perché c'è fuori al cinema un documentario di Mario Martone e mi sono ricordato che è stato il primo film che ho visto dopodiché crescendo ho iniziato veramente a vedere 3-4 film cioè io quando facevo sega a scuola andavo al cinema oppure con lo zenetto andavo al festival di Venezia ma a 17 anni 16 anni vedevo 3 film al giorno perché non c'è un film che mi ha segnato in totale ci sono stati dei film che ho iniziato a capire piano piano e poi ho incontrato un insegnante a scuola di inglese che mi ha fatto capire che il cinema non era solo quel bel intrattenimento di cui godevo ma che poteva essere una cosa che diceva chi ero che che un'inquadratura non era solo un'inquadratura che una battuta non era solo una battuta e che attraverso quella cosa la persona che mi stava raccontando quella storia mi stava facendo vedere il suo modo di vedere la vita e quella cosa lì mi ha affascinato enormemente e poi il sogno il divertimento cioè comunque cioè questa cosa che puoi essere anche un'altra persona non è una figata incredibile totalmente cioè poi tu hai fatto veramente ruoli ma può essere anche una cosa inanimata cioè gli attori venivano sepolti in terra non consacrata perché non erano perché erano in mezzo perché erano in grado di rappresentare ciò che non si doveva rappresentare ok cioè se io posso essere un elefante io posso arrivare a credere di essere un elefante poi le mie fattezze non possono non sono esattamente quelle ma se tu mi guardi tu puoi avere la sensazione che io sia un elefante per quello in questo momento in questa cultura woke così in cui si dice tu puoi fare questo solo se sei questo solo se sei questo solo se sei questo solo se sei questo c'ho un po' di difficoltà gli attori non hanno sesso non hanno religione non hanno etnia io posso imparare a recitare guardando un'attrice guardando un'attrice di un'etnia diversa dalla mia di gusti sessuali completamente diversi io credo che gli attori non abbiano sesso non abbiano nazionalità non abbiano lingua io posso godere un film coreano in coreano e non sto facendo la cosa la corazzata un'attaccata pazzesca sto dicendo che è un linguaggio oggettivamente e obiettivamente internazionale già di suo rinchiuderlo non credo che faccia bene al cinema dopodiché è chiaro che alcune minoranze vanno protette e attraverso anche questo ragionamento si sta mettendo giustamente l'accento su alcune cose però attenzione al contrario perché può diventare censura c'è una cosa che ti ho sentito dire recentemente che mi ha colpito molto perché in qualche modo tu credo che sia a parte che per me sei il numero uno in Italia a fare questo mestiere però c'è anche sei anche quello che a livello internazionale ha una certa popolarità è comunque in grado di fare tante cose anche nel cinema internazionale e molte le hai fatte non sono il solo no 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 non sei il solo adesso anche mi vengono in mente anche Borghi eccetera Borghi, Marinelli Riccardo Scamarcio sta girando tantissime cose non solo noi Giannini ha girato tantissime cose Matilda De Angelis ha girato Sabrina Impacciatore il problema è questo che se non ci vengono date le opportunità è quello infatti una cosa che ti avevo sentito dire era proprio questa e su cui non avevo mai riflettuto effettivamente cioè il cinema americano Hollywood fa il film sugli italiani e viene interpretato da attori americani che fanno gli italiani Gucci sparo uno a caso però all'attore italiano mai gli farebbero fare il ruolo dell'americano tu dicevi mai farebbero fare Kennedy avevi detto una cosa di questo genere no? e io non sapevo che quando il cinema americano viene a fare un film in Italia ha anche delle agevolazioni l'ho sentito l'ho letto recentemente quindi tu dici ci dovrebbe essere una regolamentazione un qualcosa per cui ci possa essere anche per noi una possibilità in più da quel punto di vista perché adesso si mette si mettono tanti puntini su lei come dicevi prima giustamente su alcune minoranze che vanno protette quant'altro adesso anche sul doppiaggio insomma ce ne sono tante adesso di regole però su questa cosa qui magari invece non c'è no ma soprattutto sulle nazionalità cioè tu non vedresti mai in questo momento un messicano fare uno spagnolo certo già figurati comunque la lingua nelle sue differenze è una lingua comune fatti salvi le lingue anglofone quindi australiani neozelandesi inglesi americani in cui comunque questa è abitudine abbiamo inglesi che fanno gli americani americani che fanno gli inglesi sì e alcuni non se ne accorgono cioè noi in Italia la maggior parte lavorano e quindi siamo rimasti l'ultimo paese in cui questa cosa qui non è un problema ora quel 40% di sgrave fiscale non c'è solo per le produzioni americane cioè il tax credit che è una dinamica per un investimento produttivo industriale importante per il settore per cui non si sta dicendo non toccate quella cosa lì anzi no no si sta dicendo si sta dicendo però che come fa Riccardo Sgamarcio Luca Marinelli o il giovane attore di 20 anni che ancora non conosciamo avere un'opportunità fuori se il ruolo da italiano che dovrebbe avere la libertà di girare nel suo paese poi anche lì in inglese e a lei va bene come fa quella ragazzo lì quella faccia lì a riuscire ad andare fuori da lì dai confini se poi invece dobbiamo prendere il ventenne americano già noto perché così lo vendono è chiaro che rimarremo sempre una piccola realtà ti dico io non sono d'accordo in generale su questa cosa adesso a Berlino c'era film su Golda Meier interpretato da Helen Mirren che non è ebrea e questa cosa ha generato un grande caso no ma come facciamo noi se le nostre storie non vengono rappresentate da noi culturalmente a poter portare la nostra storia la nostra vita fuori anche come credibilità poi alla fine tu vedi ripeto stiamo parlando di attori straordinari io non è che ce l'ho con Al Pacino però sono un po' stanco di vedere queste persone che entrano nei bar facendo ehi a Capcino Mario alla cioè io non parlo inglese così è un cliché anni 50 dell'italo-americano del New Jersey che viene riproposto sempre sempre di cui io sono personalmente molto stanco e soprattutto se queste sono le regole ripeto le condivido fino a un certo punto se queste sono le regole perché siamo gli unici esclusi non lo capisco si viene in Italia per questo 40% di tax credit se domani questo cosa la fa la Svizzera vanno tutti in Svizzera però sarà complicato che un attore americano faccia uno Svizzera adesso c'è una produzione importante sul Napoleone cioè Joaquin Phoenix che sta facendo Napoleone è una produzione inglese non si gira in Francia con un regista inglese che guarda caso è lo stesso che fa Gucci ma in Francia sto con il naso cioè raramente difficilmente la Francia avrebbe dato danari suoi per girarlo lì perché i francesi hanno detto no ma in questo momento c'è un film che sta vincendo qualsiasi premio che è niente di nuovo sul fronte occidentale un film tedesco interpretato da bravissimi attori tedeschi in tedesco prodotto da Netflix che sta spaccando non è in inglese è una storia tratta da un romanzo tedesco e giustamente viene fatta dai tedeschi e ce lo vediamo e il tedesco ha parlato meno dell'italiano nel mondo no direi è anche quello che ti fa un po' più effetto ora so già che c'è qualcuno che sta dicendo ma Favino fa pure quei ruoli là allora io faccio parte di un gruppo di persone che si sono messe insieme durante la pandemia che si chiama Unita sono più di 1500 attori ok che hanno deciso di usare le facce più conosciute a tutela di le facce ma si sente che tu stai parlando a nome di tutto il movimento non tu ma già all'interno del movimento c'è qualcuno che può aver pensato però sì come la vivi questa cosa che effettivamente ogni tanto si fa la battuta beh tutto era partito dalla famosa scena di Boris in cui tutti i ruoli li fa Favino eccetera tu come la vivi questo tipo di battuta anche lì c'è un'altra c'è un'altra cosa se un film esce in sala e dopo 20 giorni è sulla piattaforma io anche se faccio tre film tu hai la sensazione che faccio tre film contemporaneamente beh è vero allora negli altri paesi ci sono 180 giorni di finestra si chiama è rimasta sempre 180 giorni anche adesso addirittura in Francia di più cioè non può uscire un film in sala e averlo sulla piattaforma dopo 20 minuti ci sono dei film che possono essere tranquillamente solo per la piattaforma ci sono i nativi va benissimo io le uscite di tre giorni per andare poi che adesso vedo che è una cosa che si sta facendo spesso tre giorni sei al cinema quella settimana lì e poi dopo e quindi uno perché dice vado al cinema quella settimana lì non solo ma il rischio quindi è che anche il film che non lo fa tu pensi ma perché devo andare al cinema tanto mi arrivo a casa fra un attimo e quindi tutto il discorso che abbiamo fatto prima bello se ne va a farsi bene dire perché la gente dice ma io sono tanto bene poi posso pure andare a far pb a magna certo certo per cui ti dico per esempio Nostalgia è un film che ho fatto è uscito a Canna a maggio e è uscito sulla piattaforma certo tu in contemporanea secondo un altro un altro film che è uscito a novembre quindi a sei mesi di distanza te lo trovi insieme certo e quindi è quella sensazione che Favino sta sempre in mezzo considera che gli attori che noi consideriamo straordinari facevano 4-5 film d'anno e stavano in sala 3 anni c'era la prima la seconda la terza la quarta visione mazza no c'era questo questo problema è vero che si rischia così non solo di non proteggere il prodotto ma di non proteggere anche gli artisti quindi io credo che se ci fosse poi insomma guardate intorno non è che escono tanti film adesso al cinema no nascono molti milioni di prima e stanno più a lungo perché visto che c'è evidentemente quindi una saturazione non è che non c'è materiale per le piattaforme no ce n'è ce n'è ci sono troppi contenuti adesso è impossibile starci dietro quella saturazione là è destino e tu in un anno quanti film fai migliamente ci sono degli anni che vai in un modo c'è anni che ne faccio uno anni che ne faccio due anni molto eccezionali in cui magari mi capita di farne però mi faccio sempre la domanda ma quando escono e quindi cioè per non anche essere sovraesposto ogni tanto dico ma che c'è oddio c'è un film ancora con me però allora la roba bella anche prima no insomma quando mi raccontavi il mondo della polizia cioè tu facendo l'attore e per i ruoli che hai fatto tu e per il tipo di approccio cioè sei un botto di cose cioè hai scoperto mille mondi sì una figata una figata qual è stato il più difficile forse in cui ti sei addentrato per cercare di capire le dinamiche no il più ramificato è stato sicuramente Buscetta però anche Pinelli cioè ho fatto Pinelli che è un per chi non lo sapesse un anarchico morto suicidato alcuni dicono altri no ok per la strage di Bologna 1969 il romanzo di una strage di Marco Tullio Giordano e quella è una pagina di storia che è ancora oscura c'è stato un processo c'è stata una decisione tutto quanto però anche lì quando ti scontri con quelle realtà lì ma perfino con appunto Amamet Craxi ma su Craxi tipo a un certo punto non hai mai pensato no io questa roba qua non ce la faccio è diventare cioè Craxi è impressionante la metamorfosi che hai avuto tu cioè la prima cosa che ho pensato è che cacchio c'entro io ok quando me l'hanno proposto ho detto ma io ma perché e però poi i registi sanno anche questa cosa qui di saper vedere cose che tu non vedi di te e lì è iniziato questo percorso è stato molto faticoso fisicamente in particolare che comunque 5 ore di trucco 1 ora e mezza di strucco 8 ore di 7 in mezzo cioè ho lavorato 16 17 ore al giorno e felice di farlo però dopo un po' meno male che c'avevo la maschera anche lì il trucco poi era pesante quante ore durava 5 ore 5 ore 5 ore quindi mi hai chiesto a che ora ti venivano a volte avevo la convocazione a luna di notte per iniziare a girare alle 6 e mezza e poi c'era un'ora e mezza dopo per struccare che avevano 11 pezzi di trucco però anche lì io poi venivo ad aver fatto buscetta e c'erano delle strane cose della nostra storia che si incrociavano cioè comunque il processo Pecorelli ad Andreotti che era ministro degli esteri quando Crax era primo ministro insomma degli intrecci interessanti a me poi piace la storia piace la storia contemporanea quindi ecco quando ho finito di girare buscetta ho avuto dispiaciuto perché avrei voluto continuare a indagare proprio perché quelle diventano proprio delle indagini e beh cavolo se ti va a informare poi così tanto è quella che non non si vede nel senso cioè si vede il frutto nel tuo ruolo ne vedi la profondità però è la parte più figa in assoluto cioè io quando posso adesso devo fare sto film su quello ah che figo te lo vai te lo studi libri scopri cose che mai no le persone vai a prendere le palle le persone certo io quando ho fatto l'uscita ho parlato sia con i servizi segreti che con i mafiosi con gli avvocati mi sono andato a risentire tutte le registrazioni beh ma anche a leggere gli atti processuali ho incontrato giudici grandi esperti di mafia ho letto libri tedeschi che ne so cioè quella roba d'approfondimento che magari mi fa passare per secchione però che io godo beh però che faccia fare anche la differenza beh poi invece per il tuo ruolo anche molto immersivo nel cioè per il tuo modo di interpretare in modo immersivo poi non ti resta già vera quella cosa che poi qualcosa comunque ti resta cioè tu riesci a chiudere con un ruolo e andare in un altro o rimani comunque un po' assorbito da quella persona cioè ti resta qualcosa io non me ne rendo conto di solito mia moglie me lo dice e io a lei per esempio mia moglie ha fatto una serie dalle fate ignoranti di ospite in cui lei era la compagna di Ambra ah sì sì certo e l'ho vista piano piano trasformare il suo modo di camminare di camminare di gestire le cose in casa il modo in cui mi guardava il piglio ma lei non è che lo faceva apposta non è che si sedeva davanti a me facendolo o sedersi in un modo piuttosto che in un altro e la stessa cosa la fa lei con me per cui si accorge che delle volte di solito è quasi sempre dopo una litigata coincidenze ma è uno stronzo questo perché stai lavorando molto bene però insomma ecco non ho mai stretto le mie figlie a vivere in un bunker ecco diciamo che su quello c'è stata una netta scissione abbiamo fatto call my agent chiaro abbiamo preso di questo attraverso quella cosa lì però però non te ne rendi tanto conto ogni tanto per esempio io ho finito di fare il traditore ho iniziato a fare uno spettacolo teatrale e durante le prove mi tornavo questo modo ah sì avevo ogni tanto la sensazione e se chiudo gli occhi ho proprio il film che non ci fosse qualche cosa che ancora mi ricordava ma se anche questo il fatto del cambiare così tanto la voce la lingua anche nel film quello dei moschettieri cioè che lì cazzo è inventato quasi un modo nuovo di parlare cioè riuscire a mantenerlo per tutto il film per ogni cosa staccata cioè cacchio no è divertentissimo però è di una difficoltà ma io ci sono nato così sono nato scimmia proprio come anche si vede però no è una cosa mi ha sempre interessato io sono ho letto anche ci sono delle intelligenze diverse e una di queste è quella auditiva e io ho le orecchie intelligenti ho capito ho capito che ho le orecchie cioè il senso dell'udito è un senso molto sviluppato però se ci pensi se io chiudo chiudo tutte le luci in questo momento e tu parli diciamo che la trasmissione inizia così luci spente non si vede niente e tu dici semplicemente questo ciao a tutti sono io e la gente sa che sei tu cioè ci sono tre cose assolutamente distintive di un essere umano l'impronta l'occhio e la voce e noi la diamo per scontata cioè al citofono quando fai chi è? io e ti aprono hai detto i e o e ti aprono è vero e se ti dice io un'altra persona scusa chi è? però si lo capisci è che è io ed è subito riconoscibile è un'emanazione della tua è vero personalità come non ce n'è un'altra cioè io da distanza non posso riconoscere gli occhi di una persona no no però se quella persona mi chiama io so dov'è sì e ti fa anche è anche un mezzo diciamo di teletrasporto la voce totalmente ti fa andare anche da altre parti totalmente quindi una roba e poi in più la nostra realtà quotidiana cioè se tu esci per strada e vai al bar sì trovami il milanese che parla milanese no beh no trovami il romano che parla romano quella roba è storia sì sì c'è dietro un mondo ti potrei attaccare una pipa che come vedi sono capace di fare no no ma è molto interessante però insomma è anche un problema storico per noi beh sì sì tu su quello insomma grandi esplorazioni tu credevi che la tua carriera quando hai iniziato sarebbe arrivato a questi livelli cioè io ho una grande ambizione su come lo faccio ok cioè penso che questo sia un mestiere che si può fare in maniera inarrivabile onestamente però non l'ho fatto pensando che c'erano tutte queste cose di mezzo cioè anche il successo certo o il trattamento economico cioè io è una conseguenza ma che non avevo considerato cioè non ho iniziato a fare questo mestiere dicendo voglio fare l'attore di successo e ben pagato no io volevo recitare e ancora oggi è quella cosa cioè quello che c'è intorno un po' ti può affaticare e certo lo dico da un punto di vista di totale assoluto privilegio quindi non voglio essere assolutamente ipocrita però penso anche che un attore dovrebbe veramente parlare solo attraverso il suo mestiere quando lo spieghi come fai a spiegare una canzone però trovo molto in tipo quello che hai raccontato fino adesso è di un interessante incredibile cioè capire che cosa ci può essere perché è l'aneddoto sì sì è l'aneddoto ma è anche il punto cioè adesso nella chiacchiera adesso hai tirato fuori due o tre punti diversi dove già anche io magari non avevo a cui non avevo pensato magari chi ci ascolta questa è una roba incredibile questo tipo di scambio penso per esempio ogni tanto mi sono detto ma io dovrei fare una cosa come questa che fa cazzo e chiamare i miei colleghi cavolo ma non solo attori direttori della fotografia sì sì anche gli altri mi dici che vuol dire mettere le luci ma guarda che sarebbe una cioè devi so che c'è un miliardo di roba cioè tra un film e gli altri dovresti provarlo però sì è super interessante magari è proprio questo che poi magari ti spinge a totale al cinema chiaro perché scoprire scoprire che cosa c'è dietro poi è un grande momento adesso per raccontare cose mi è impressionante che quando ti sei seduto qua prima che partissimo hai una grande passione verso anche la tecnologia che c'è dietro al cinema no? mi dicevi ora io ti potrei dire già anche che telecamere sono queste le luci la marca le cose sì poi queste non sono macchine da cinema no no queste sono però si può dire che modello sono che lenti stai usando a maggior ragione che inquadratura è quella che inquadratura è quella inquadratura è quella e che tipo di luci sono queste ebbè però non è dovuto è no no è una tua passione sì cioè c'è chi investe in macchine di lusso io invece come un cretino ogni tanto mi compro un led però prima hai citato i tuoi colleghi qual è il rapporto tra i colleghi tra gli attori italiani cioè mi piacerebbe fosse un po' più collaborativo su alcune cose proprio di sistema detto questo per la prima volta nella storia 1500 anime si sono messi insieme per tutelare i diritti di una categoria che passa per essere una categoria privilegiata allora noi non abbiamo un contratto collettivo nazionale cioè non abbiamo mai avuto il mondo degli attori non ha un minimo sindacale non ha regole un ragazzo che inizia piuttosto che un attore di 60-70 anni o 75 anni molto spesso si deve pagare da solo l'andare sul set col rischio che possano decidere anche dopo una settimana di lavoro di mandarlo via senza nessun tipo di ripercussio nessuno infatti noi questa guerra l'otto la guerra questa giusta battaglia la stiamo facendo insieme ai sindacati di categoria ma non riguarda mica solo noi gli stuntmen c'è gente che di professione va là con il rischio che si faccia male regolarmente tutte le maestranze quel discorso che facevo prima sugli attori italiani riguarda anche le maestranze cioè da contratto oggi è molto difficile che uno scenografo e non un assistente scenografo ma uno scenografo che in Italia ha fatto magari 10 film venga chiamato per fare lo scenografo cioè per costruire le scene su un film americano perché loro come loro regole tutelano i loro tutelano i loro che neanche il primo assistente che ovviamente probabilmente in questo momento deve appartenere alla minoranza così che alla produzione non si possa dire ah tu sei discriminato a orio e quindi il buon il buon scenografo italiano va a fare il terzo ruolo pagato come un terzo ruolo quando è abituato ad essere pagato in un altro modo e così tutte le categorie per cui non è a tutela solo del bel facciona di Pierfrancesco no no è di tutto però insomma con i colleghi ho un rapporto bello io personalmente detesto la 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 locuzione rubare la scena perché non sono mai stato uno che pensa che la scena sia mia in questo film per esempio c'è una Linda Caridi straordinaria Antonio Gerardi è bravissimo Francesco Di Leva è bravissimo cioè non sono uno che pensa che deve essere lui al centro e il resto deve essere così cosa chiaro no no si percepisce anche quando insomma è capitato di ascoltarti in altre presentazioni hai sempre una parola ottima quando c'è occasione di parlare dei tuoi colleghi poi sono andato a vedere il film oggettivamente e poi ci sono dei colleghi con cui sono cresciuto insieme cioè devo dire ho avuto la fortuna anche di appartenere ad una generazione ricca da questo punto di vista di facce di passione la generazione è bello vedere che alcuni di voi sono amici da tanto tempo cioè ritirare fuori delle foto del passato l'altro ieri mi è arrivata a Berlino la foto di uno scenografo che si chiama Pachi Meduri dove c'eravamo io Valerio Mastandrea Giovanna Salvatore che adesso lavora nel mondo della musica Pachi e altri tutti quanti noi che ci conosciamo da quando siamo a vent'anni abbiamo fatto un percorso diverso ma comunque avevamo quel sogno a vent'anni ed è successo che siamo riusciti a realizzarlo questo è è di ispirazione veramente per un sacco di gente è fighissimo però ti dico per esempio noi non avevamo l'opportunità di fare la cosa che stai facendo qua cioè tu qui dici io ho una cantina metto su una roba cioè butto lì qualche soldo tiro su una cosa e qualcuno la può vedere noi no chiaro era diverso proprio completamente quindi in realtà i mezzi sono di più cioè molto più leggeri da quel punto di vista per cui secondo me noi abbiamo avuto anche la tigna cioè la testardaggine chiaro però è vero che siamo partenuti avevamo vent'anni venticinque anni c'è un film che secondo te è stato che fa un po' da spartiacque cioè che ha fatto un po' fare uno switch un paio di situazioni a te personalmente come spettatore come come no no come carriera tua cioè c'è stato un paio di film credo che ho avuto la fortuna di essere all'interno dell'ultimo bacio quello è stato un film importante e di aver avuto sicuramente la fortuna di essere dentro un romanzo criminale che è stato un altro film un po' come questo quando abbiamo fatto un romanzo criminale nessuno diceva ma quel genere di film non funziona in Italia sì era partito e tra l'altro andammo a Berlino in quella occasione e da lì serie cioè la prima serie italiana di un certo tipo è stata il romanzo criminale per cui quando dicevo prima mi auguro che possa essere un detonatore per qual peraltro certo sì penso questo e poi sicuramente c'è stato cioè ci sono stati diversi titoli io ho fatto tutto piano 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 e poi la verità è che secondo me il vero detonatore è stato Sanremo davvero? ma certo sì ma sì beh è stato un successo incredibile anche il vederti in un ruolo diverso in qualche modo che è quello che normalmente facevo nelle scene di 10 e adesso l'ho fatto di fronte alle persone perché comunque tu sei arrivato saremo già con un successo cioè già eri Pierfrancesco Favino sì però ero Pierfrancesco Favino per carità sì bravo attore un po' noioso fai film noiosi no addirittura qualcosa sì qualcuno sì oppure sai tu sei conosciuto in un modo a seconda del film preferito certo c'è gente che mi dice tu sei un attore comico straordinario c'è gente che dice un traditore top sì sì c'è gente che invece mi vuole vedere sempre D'Artagnan e va benissimo sì sì però quella cosa lì secondo me ha dato l'impressione di chi sono io come persona e se tu pensi a grandi attori di una volta tu avevi una sensazione di parentela con Mastroianni con Gasman con Manfredi cioè ti appartenevano appartenevano a qualcosa di te perché perché ti erano entrati in casa come se fossero dei parenti e quella cosa lì quel legame lì credo che lo faccia oggi solo la televisione però non l'ho fatto recentemente no no ti è successo beh lì però hai spaccato perché hai fatto tutta una serie di cose che sono state belle ma anche le cose off stage mi ricordo la roba con Frude de Giacca che fu divertentissima altre situazioni sia sul palco che non il monologo che invece qual è stata la cosa più difficile per te di quell'esperienza beh stare dietro perché tu non hai reso cioè sembrava che fosse tutto nelle tue corde però io immagino che comunque uscivi un po' dalla tua comfort zone in quel momento totalmente la cosa la cosa più sbagliata in assoluto che invece loro un po' si aspettavano era che io facessi quello che veniva dall'alto quello che diceva ma io sono l'attore quindi sono qui e da quella cosa abbiamo iniziato a giocarci cioè quando Claudio Baglioni mi diceva ma lei è qui per il teatro di parole no? in realtà forse un po' era quello che si aspettavano invece Claudio aveva intuito che era un cazzaro e quindi aveva intuito anche che c'era questo desiderio di divertimento e quindi io non ho avuto difficoltà la cosa più difficile è stata trovare delle ore di sonno certo immagino e però la cosa più difficile e anche divertente è che tu hai una scaletta che arriva alle 8 e 50 e alle 9 e 1 è già saltata per cui tu ogni tanto vieni buttato dentro cioè vai boom e dentro allora quante volte senti dire bentornati perché quello è il momento in cui si è stato buttato dentro e stanno temporeggiando temporeggiando capito da quella mito assoluto che è Michelle Luzi che dovevo far così ho imitato Michelle Luzi se lei va così funziona però poi si è creata tra di noi una condizione secondo me irripetibile in cui se tu dicevi a Baglione adesso tu ti butti per terra e lecchi le scarpe lo faceva era nel flusso esatto e la stessa cosa io cioè allora noi aggattonando dobbiamo andare lì va bene ma siamo di fronte a 12 milioni rispetto a te però è divertente sì dai però è arrivata forte alle persone che han seguito e che vi abbiamo seguito insomma noi ci ne siamo resi conto forse dopo a parte la stanchezza dopo dopo è stato come essere stati sulla luna tornati ci chiamavamo ci hanno detto come stavi per noi e per tutti i nostri collaboratori ma ti ricordi quando te l'hanno proposta questa cosa di Sanremo tu eri subito e hai detto no ah cioè come è andata è che mi hanno proposto questa cosa sono tornato tra l'altro la mia gente lo sapeva che me l'avrebbero proposto ok sono tornato e ho detto mi hanno proposto di fare Sanremo e dopo di che l'ho condiviso con degli amici di vecchia data Sabrina Impacciatore Gabriele Muccino Andrea Galbucci la mia gente da subito mi ha detto ma è giusto chi lo può fare fai tu Alessandro Folador che è il mio amico ah se fosse qui Alessandro se fosse qui tipo di fronte a noi se sapesse che è sempre molto cauto si e poi a un certo punto mi sono reso conto che la paura di farlo non era mia mi sono reso conto che le cose che mi avrebbero spinto a non farlo erano i pregiudizi del mio ambiente nei confronti della televisione e mi sono incazzato con me stesso in una maniera piuttosto forte e mi sono detto ma tu ho quasi 50 anni dopo 25 26 27 28 anni di carriera comunque onorata guadagnata pezzo pezzo hai paura di quello che possano pensare di te se fai una cosa del genere detto che io secondo me quello di mestiere dovevo fare cioè io sono nasco intrattenitore per la mia famiglia per i miei compagni di scuola io sono il classico compagno di scuola che faceva l'inizio per una battuta sarei capace di andare in galera e quindi mi sono detto ma tu hai l'opportunità finalmente di divertirti con delle persone che stimi e che mai ti metterebbero in una condizione di difficoltà hai la possibilità di dirla tua sulle cose che non ti va di fare è un'esperienza completamente nuova se va male va malissimo perché se va male certo li è o divaporizzi senza proprio il rumore e se va bene forse le persone ti vorranno bene ed eccoci qui però nel momento in cui l'ho fatto mi sono proprio divertito 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 come andare in vacanza con gli amici di una vita bello questo si è percepito è stato riproposto dopo sai quando fai la vacanza della vita e poi la rifai e non viene più bene mi sono detto ma io mi voglio tenere quel ricordo lì però questa cosa qui sicuramente come risultato ha avuto il fatto che le persone avessero avuto una sensazione di chi sono io e quindi poi anche da apprezzare quello che non sono io quando lo vanno a vedere bello bellissimo cioè hai detto poi una roba anche su diciamo il discorso del pregiudizio che tu stesso ti davi che è forte ma prima hai citato per chiudere poi parlando di amici hai citato Sabrina impacciatore mi ha colpito molto quello che sta succedendo a lei e mi ha colpito anche lei come lo ha commentato nel senso che lei ha partecipato a questa serie di grande successo The White Lotus negli Stati Uniti facendo il ruolo di un'italiana giusto? quindi quello tornando anche al discorso girata in Italia girata in Italia girata a Taormina quindi il discorso si aggancia a quello che raccontavi che dicevi prima perfettamente e lei improvvisamente è diventata Sabrina impacciatore quando lei stessa è stata la prima a dire cacchio io ho una vita qua che mi tengo aggrappata e improvvisamente per questa cosa qui adesso sono diventata la numero uno guarda questa cosa ci sta nel nostro mestiere ci sta ne parlavamo prima il tuo viaggio ci sta che comunque tu abbia un'opportunità in attesa e ci sta anche che poi quindi alla fine dici orca miseria ma perché non è successo prima io per tanti anni l'ho vissuta così per tanti anni ho detto ma perché mi dicono tu sei bravissimo e poi non faccio mai quella cosa lì poi ho avuto l'opportunità quando dicevo piano 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 io ho fatto veramente tanta gavetta io lavoro da 32 anni se vedono tutti però però lavoro da tanti anni e ho iniziato proprio da il pranzo è servito non la trasmissione ma la famosa battuta e e non cambierei questo percorso però il problema è che se poi non c'è un sistema che invece sa approfittare della nostra delle nostre capacità allora il mio discorso che è nato a Berlino rispetto al fatto che gli attori americani fanno i ruoli da italiano è stato provocato tra virgolette da una domanda di un giornalista estero che mi dice ma come mai il cinema italiano non riesce a una delle ragioni è che dobbiamo tutelarlo e dobbiamo tutelare le persone che ne fanno parte per un ragionamento industriale non politico non è un ragionamento sindacale penso che a quel punto c'è un sacco di gente che a me mi fermano dicendo ah orgoglio italiano io non lavoro negli Stati Uniti da un sacco di tempo da un sacco di tempo cioè saranno 6-7 anni che non faccio un film negli Stati Uniti quindi vuol dire che quelle cose che ho fatto tanto tempo fa sono rimaste così impresse impresse come un'eccezione ecco noi non dobbiamo essere un'eccezione se vogliamo essere rispettati perché allora sarà facile non darci premi allora sarà facile non considerarci io adesso sono qualche anno che vado in giro per festival internazionali per premi internazionali io lo sento come sta cambiando la percezione in fronte del nostro mondo del cinema italiano dei giornalisti italiani i giornalisti italiani prima erano trattati in un mondo completamente diverso rispetto a come sono trattati adesso sono trattati in maniera molto più secondaria adesso? sì perché è normale è come la serie A certo sì è la stessa tipo di serie A venivano a giocare tutti più grandi non è solo una questione di investimento economico però è una questione di regole e quindi ben venga che due attori stranieri di qualsiasi paese siano vengono a raccontare una storia di due persone che vengono da quel paese nel nostro paese benissimo però poi se c'è se c'è un'attrice non va bene che sia cubana e non italiana ed è successo nell'ultimo film che è venuto a girare proprio dentro di Washington da noi in cui su un ruolo da italiano hanno preso una cubana e per loro non fa differenza ma come? e fai tutto quello che non puoi doppiare se non sei e quindi allora stiamo tornando a parlare di etnia certo quindi stiamo tornando a parlare di mondo ispanico e allora non mi attacca con la pipa sì è una contrapposizione o liberi tutti oppure anche noi ci credo semplicemente io ti ringrazio un casino per questa chiacchierata è stata di un'ispirazione incredibile a proposito come sta andando con l'accademia con i ragazzi benissimo benissimo sai che mi è capitato recentemente di tirarla fuori perché è venuta mi ha incontrato una madre di un ragazzo giovane che voleva fare l'attore disperata ma scusa ma tu non conosci io ho tirato fuori è a Firenze però guarda che opportunità che c'è qui è una roba incredibile quella sì si chiama l'ultrarno la scuola fatta insieme al teatro della Toscana quindi se la facciamo è grazie a loro anche a un comune che si chiama Pecciole che è vicino a Firenze gruppi di 16 attori che hanno la possibilità di accedere gratuitamente se vengono presi perché la scuola è pubblica a un insegnamento che viene tenuto da insegnanti che vengono da tutto il mondo e il talento non alberga solo nelle famiglie di chi se lo può permettere per me questa è una roba fondamentale quindi sono al terzo corso adesso con un gruppo secondo me straordinario di ragazzi molto giovani il nostro intento è quello che ti dicevo prima non è che io gli dico dovete fare come me anche perché non c'è un modo di fare questo mestiere io dico dovete capire chi siete voi e per favore fateci vedere come si può fare meglio di come lo facciamo noi una bomba incredibile a proposito di vedere andate tutti a vedere l'ultima notte d'amore il 9 di marzo è sulla puntata credo che esca un pelo prima tanto non vi abbiamo spoilerato niente anzi se vi piace stare all'interno di un film in cui non sapete quanto tempo passa non sapete non sapete che cosa succederà e vi piace stare in tensione circondati da suono e immagini questo è il film per voi perfetto grazie davvero ma scusami un'ultima cosa le limitazioni tu sei ancora fortissimo sulle limitazioni me la capicchio qual è quella che secondo te ti viene meglio in assoluto ciubeca ma va sei fare cazzo ciube 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 siamo a casa fantastico Francesco Favino è passato dal basement grazie 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 a nome di tutti quelli che hanno ascoltato davvero grazie